se vi capita di dover caricare la macchina ricordatevi di controllare prima che i sedili dietro ti abbassino che se non succede questo Allora siamo qui con il cantante e chitarrista di Akamido Superhero e volevamo sapere che cosa ne pensi di questo gruppo di questa nuova esperienza prego dici no è bellissimo suonare con questi ragazzi anche perché se capita a volte non so che sbagli e non c'è nel senso che loro ci passano sopra questa è la punizione per chi sbaglia nel nostro gruppo Stanno dietro e dicono ti dicono però non fa niente la prossima volta la farei meglio quindi che non mi metterò a studiare sono bravi ragazzi insomma sentiamo invece l'altra chitarra e voce si è un bravo ragazzo è molto disponibile non sbaglia mai di mettere in pressione scusa ma che sai qui a che serve questo per raccontare la chitarra si si questo è uno strumento antico di un vecchio miutaio che si è ah ecco ok 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 C'è una sigaretta? C'è una sigaretta? Che cazzo mi avete messo? Che schifo guarda, non caccia le palle No, non è buono, non è buono È buono, giuro È buono, giuro Troppo zuccherato? Buono è un parola incommplice E poi viete quell'altro No, non è buono No, non è buono No, non è buono No, non è buono